Un seminario sullo sviluppo di piattaforme per l'uso dell'orbita bassa è stato ospitato oggi dall'emiciclo, organizzato dallo Spart Cluster del presidente Guido Arista e dall'Ordine degli Ingegnari della provincia di Roma, Commissione Aerospazio, con il patrocino del Consiglio regionale. Progetti spaziali e formazione di esperti nel settore sul piatto con oltre 450 partecipanti, molti in remoto. Obiettivo presentare la capacità industriale per progetti futuri di accesso e sfruttamento dell'orbita bassa terrestre. Lo spazio oggi è un settore strategico e all'Aquila ha una lunga e importante tradizione che può determinare anche posti di lavoro in più, occupazione. Molte aziende abruzzesi e dell'Aquilano, comunque qui insediate, rappresentano un ambito, quello della cosiddetta space economy, che può intercettare le opportunità che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in generale, che riserva risorse importanti per lo spazio, ma anche il fondo complementare Sisma mettono a disposizione. Questa è una delle ragioni per le quali oggi ho inteso prendere parte a questa iniziativa. L'altra è legata alle applicazioni ai fini della prevenzione, del monitoraggio, del controllo dei rischi naturali, delle attività di soccorso post-catastrofi naturali ed altre applicazioni ancora. Le capacità offerte dall'orbita bassa possano essere messe infatti a sistema tra piccole e medie imprese, grandi imprese e istituzioni. Si è parlato di applicazioni tecnologiche sia nel campo militare della difesa, ma anche per la sicurezza del territorio e ci sono anche cose che si possono sfruttare legandosi al 5G. I satellite orbita bassa hanno la possibilità, innanzitutto, di utilizzare delle tecnologie che sono commerciali, quelle che vengono chiamate tecnologie COS. E quindi il costo per la realizzazione di satellite orbita bassa è molto più basso. Questo fatto qua copre molte applicazioni, dei servizi che vanno dall'osservazione della Terra e quindi con un dettaglio molto maggiore. Pensiamo anche al satellite italiano Cosmos SkyMed che ha un orbita di 620 km, anche se quello è un satellite grande, molto costoso e quindi con una definizione altissima utilizzando tecnologie SAR.